la stazione il cibo il cibo il cibo il cibo la stazione ed è che a morire 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 che a morire e ti pare tutto e questi passaggi E' il ruto! E' il ruto! Pochi di massa! Pensa! Pensa! Grazie a tutti. in ... ... ... ... ... ... ... ... Sì, mi sono già! Voi? 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 Voi capire? Voi? 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 Alcaldolio Lianza sa fare più da noi, a qui ci sono di da mano, però non sono di da mano, nessuno esqueci le persone dicono che si dà il cale, o sono le loro dannime, perché la loro non cuore il bambino, Alcaldolio era di tutto, ma guarda il bambino? Ora noi? E' la loro sugliere le riempie, ora?! Non ci sono sempre! Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.